Ci ha provato tutti i modi di cercare di infilarsi nella scuola, nel Littis di Casali, l'Istituto Superiore. Di venire in piazza Casa Pusterengo non ci è riuscita perché c'era gente pronta ad accoglierla per contestarla. Ma non solo per contestarla, ma per raccoglierla. Per raccoglierla, comunque, per sentire le ragioni nostre, per far sentire le nostre ragioni. È un'occasione di avere un ministro a cantarone per lei, ma ci capita che riesca a tutti gli anni. Ok, grazie. Grazie a voi. Ciao.